Bella a tutti ragazzi, su SmegarGavito3 quest'oggi siamo tornati dopo più di un anno anche forse di più su Google Feud che perché non se ne ricorda è questo gioco di Google dove bisogna autocompletare la domanda che il gioco ti fa noi l'ultima volta che abbiamo giocato a Google Feud abbiamo giocato a questo Google Feud qua, il classico ma oggi ho scoperto da un po' di tempo che esiste anche la Multiply Choice e il gioco Photocomplete facciamo due o tre tentativi su questo normale poi passiamo l'autocomplete e il photocomplete cominciamo con nomi Cave Winslet, no, non è Winslet ne sapevo una ma in questo momento non mi viene in mente Kiss Angels Angels Parker Parker Walker Yes Urban Turman La differenza con l'altro gioco è che Google Feud hanno aumentato la possibilità di errori di uno prima erano tre ora sono quattro e poi hanno giù e poi ci sono tre tentativi quindi appena arriviamo a tre tentativi poi andiamo agli attivi Megan Fox seconda Megan Trainor non è scritto così però Megan 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 Montana Megan Taylor Megan Walker Megan Megan Michael Megan Michael Baby però comunque sempre Megan Michael nonché la first lady inglese no Jerry Calama non penso ci sia mai nella vita Jerry Scotty ma non è scritto così Scotty Jerry and Tom Tom and Jerry Jerry sì Jerry West non ne conosco uno andiamo a domande da qual'età i bambini walk speak 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 go to school go to school go to school go to school volare si sicuramente nuotare mangiare uova parlare io gli ho detto parlare andiamo all'autocomplete praticamente qua invece bisogna dire qual è quali tra queste opzioni è quella che autocompleta la domanda in questo caso quante corde ci sono in una guitar posso comprare un iphone x ho indovinato ho sbagliato che non so cosa voglio dire voglio mettere l'iphone x fortunatamente l'ho fatto giusto ho messo can you meet donald trump taylor swift alex morgan tom holland era ah è vero l'avevo fatto anche prima nel the needs of a student with an eap che non so cosa voglio dire i was bitten and buy a humane buy a retosne buy a buy a va bene buy a ok il mio amico è appassionato di fortnite lo sapevo lo sapevo al cento per cento lo sapevo al cento per cento possono maiani mangiare ossa cibo per i cani cibo per i cani no cioccolata ah cioccolata ok va bene gli oscar sono stupidi gli oscar sono stupidi poveri oscar chiunque salutiamo chi ci chiama oscar posso tatuarmi la mia lingua il mio naso le mie sopracciglia le mie orecchie ok ketchup is a vegetal questo l'avevo fatto già prima in quell'altro normale why did they build the berlin wall lo sapevo perché è stato costruito il mondo di berlino non lo so i don't like to travel to eat to work to read in spanish no and i to dream about getting paid sognare di essere pagato the beatles are coming are boring are they alive are overrated are bad no i just overrated why did they cancel z nation girl miss war last man standing one day a time ok one day a time it is painful to die from a blood cut ok giusto anche se non so cosa voglia dire i miei amici sono tutti morti e dai chiedevo sull'azione ma poverazzo ma su al secondo non c'è il secondo ma no qual è il numero per the spectrum star wars is bad is dead is dead ok famous celebrity photo cupos le coppie famose facciamo l'ultima poemi about love lo sapevo passiamo a photo complete complete la fessa usando le parole usando le più ricercate foto tipo goodbye yellow brick road ok uno frase when in che città è quella roma e siamo non capisco che immagine sia quella che cavolo di immagine è quella cos'è christmas 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 fall christmas è christmas moses university questo è un'università va bene allora the girl questo è girl è pur di figa questo allora girl queste bus questo non so che cosa the monster the the magic school era una scuola questa the magic school bus va bene child questo è child pilot no child driver forse child driver baby driver driver la giù film the cos'è una rosa quella the rose girl ah aspetta the pink girl forse the pink girl the pink panther questo è una pantera va bene the pink che cazzo è cos'è un drago dragon lake dragon lake dragon lake ah treasure island era un'isola quella no word no words no water no no cosa no no non l'idea non possiamo non scappare musica no way no 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 no, no stop ma che cacchio è cos'è no big ben no london no big ben ma che ne so io che cacchio è skip vabbè torniamo in multiple choice best movies with magic with the rock no andiamo nel classico almeno diventiamo how long should I live how long should I quanto a lungo posso speak quanto a lungo posso how long should I go how long should I win should I nap should I pump should I bake chicken what the hell is a che diavolo è what the hell is a che cavolo è un a big one che cavolo è che cavolo è un a shark a champions a long trip che cavolo è un a fall path a yurt a pansexual a farry a gigawatt a dub dub questa è la dub new workers are gay are gay ah strano are many are famous are rude are unfriendly poveri poveri new yorkesi sono rudi non amichevoli noiosi chiamati conosciuti per significa for finifica questo vuoi dire for finifica allora significa come rich off youtube primo come diventare ricchi incredibile work come diventare ricchi su youtube come diventare ricchi off football of cars of twitch come diventare ricchi stocks with bitcoin the internet penny stocks music dividends investing i want to buy apple stock iphone home o do i want to leave me to leave you love